Buona domenica a tutti, una domenica amara per i tifosi della Juventus sebbene l'Inter ieri sia stata frenata in casa per 2-2 dal Parma però il tifoso juventino abituato a vincere ovviamente avrebbe voluto tentare di allungare dico tentare perché? Perché poi magari se la Juventus avesse vinto a Lecce l'Inter avrebbe proposto tutt'altro atteggiamento, insomma non abbiamo la controprova di certo però la Juve ha pareggiato in terra salentina così come hanno fatto anche gli uomini di Antonio Conte oggi analizzando un pochettino, guardando le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non ho notato una sfilza di 5 a Delict Reo di aver commesso il fallo da rigore che poi ha portato appunto il Lecce a ristabilire la parità, l'1-1 onestamente è chiaro che Delict viva una situazione differente rispetto ai suoi compagni uoi perché è stato pagato la cifra mostre la più cara per quanto concerne la storia dei difensori appartenenti alla Serie A uoi perché percepisce tra parte fissa e bonus un ingaggio elevatissimo un ingaggio a 12 milioni nette a stagione detto ciò credo che Delict non possa rappresentare nemmeno nell'immediato un problema al di là di questa postura che l'ha portata a toccare più volte già durante questo avvio di stagione la palla con la mano, col braccio quindi creando grattacapi ai suoi stessi compagni però credo che Delict vada quantomeno protetto non è un caso infatti che Sarri lo stia utilizzando spesso e volentieri all'insegna della continuità proprio per far sì che la linea difensiva possa trovare i necessari equilibri per poi effettuare un salto deciso di affidabilità e qualità nel breve e lungo periodo però è anche vero che probabilmente in questo momento ci si aspettava un altro rendimento a parte Delict che secondo me anche a Lecce non ha fatto una brutta partita era una partita da 6 è chiaro che quell'episodio molto sfortunato molto perché credo che fosse davvero difficile evitare di toccare la palla con un braccio dopo una carambola simile però ai termini del nuovo regolamento e qui andrebbe fatto un video apposito perché io con questo nuovo regolamento non sono per nulla d'accordo era comunque rigore e credo che quindi l'arbitro abbia fatto bene a indicare il dischetto quindi da questo punto di vista regolamento in mano non si può dire niente così come non si può dire niente sul fatto che Delict sia stato estremamente sfortunato mentre per esempio con l'Inter quando commette un fallo a rigore poi trasformato da Lautano Martinez lì invece per me era stato proprio un errore tecnico a livello di postura e concettuale ecco sono errori diversi che vanno valutati in maniera differente detto ciò considerando le enormi potenzialità di questo ragazzo che ha 20 anni che ha la sua prima esperienza fuori dall'Olanda che è sotto lente di ingrandimento perenne che è sotto critiche perenni positive e negative credo che Sarri in questo momento faccia bene a dargli continuità anche perché come amano ricordare tanti protagonisti anche i giocatori più forti della storia hanno fatto fatica la storia bianconera hanno fatto fatica i primi mesi a Torino passando da Zinedine Zidane Pavel Nedve dello stesso Platini insomma l'adattamento ci vuole per tutti nessuno escluso onestamente io comunque credo che complessivamente finora Delict non si sia comportato male è chiaro che se poi ripeto andiamo a analizzare il prezzo d'acquisto ci aspettiamo che faccia 4 assist e 5 gol a partita pur facendo di professione il difensore e quindi calma, calma tutti fa bene Sarri a voler puntare costantemente su suo numero 4 e poi è chiaro che io credo che questo periodo di sfortuna alla lunga passerà e Delict otterrà i voti che meriterà anche perché è un giocatore che proprio l'anno scorso proprio la Juventus aveva fatto un male cane eliminandola di fatti ai quarti di finale di Champions League quindi calma e gesso anche perché poi da quanto ho ottenuto io parlando con qualche ben informato Delict è un giocatore altamente professionale che si sta impegnando molto nell'esercitazione alla continassa però ci vuole tempo ci vuole tempo detto ciò ripeto Alecce al di là della forte componente legata alla malasorte secondo me non ha fatto male è comunque un giocatore che tenta di essere propositivo andando a pressare e alzando il baricentro anche da solo l'occorrenza è un giocatore che imposta con due piedi insomma i pro sicuramente battono il contro certo c'è da migliorare questa postura su queste palle che sono pericolose però anche con l'arrivo di Andrea Barzani e lo staff tecnico di Sarri credo che le migliorie non mancheranno e ci vuole solamente pazienza buona domenica a tutti iscrivete al mio canale YouTube se siete tifosi della Juventus e mettete like a mio video un abbraccio grazie a tutti